Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate 15-21 gennaio 2018. Ella scopre che William è innamorato di Rebecca. Lunedì 15 gennaio 2018, Ella è molto giù di morale, perché William non è disposto a ritornare insieme a lei. Così demoralizzata, prende una sofferta decisione, lasciare il Fustenhoff, per qualche tempo. Rebecca litiga con il Ben Newcomb, ritenendolo responsabile delle sofferenze che sta patendo la sua migliore amica. Christophe vuole ricattare Werner e Charlotte, servendosi di un loro compromettente segreto, quello legato ai giri loschi di Hagen Lechner. André è pronto a scoprire se otterrà, oppure meno, la tanto desiderata Stella. Martedì 16 gennaio 2018. Christophe raggiunge Werner con l'intento di ricattarlo. Se non lo aiuterà a ottenere le quote degli eredi di Friedrich, lui si recherà dalla polizia per denunciarlo. Rivelerà che in passato ha scoperto i crimini commessi dal padre di Adrian. Werner riferisce a Charlotte la scoperta di Christophe e la donna decide di rinunciare alle sue ambizioni. Il perfido Salfid però scopre che parte delle quote del defunto Friedrich toccheranno Alconopka e Charlotte va su tutte le furie. Mercoledì 17 gennaio 2018. Christophe scopre di non poter ottenere la maggioranza. Il pacchetto azionario di Beatrice conta molto. L'uomo poi incontra Alicia ed inizia a progettare le sue nozze. William vive momenti caratterizzati da forte sconforto. Da un lato vorrebbe ritornare con ella, dall'altro vorrebbe rivelare i suoi sentimenti a Rebecca. André ottiene la stella. Il critico gastronomico poi fa una brutta scoperta. Scopre che a cucinare è stata Hildegard. Giovedì 18 gennaio 2018. William vede Rebecca e Boris in forte sintonia e si mostra molto geloso. Ella dopo essere stata dai suoi genitori ritorna al Fustenhof mostrandosi molto confusa e turbata. La Herz nel frattempo riceve un incarico importantissimo. Organizzare le nozze di Charlotte e Werner, decisi più che mai a recuperare il tempo perduto. Tina, prossima al parto, riceve una lettera da parte di David e la mostra ad Ella, che non esita a consolarla. Venerdì 19 gennaio 2018. Ella prende consapevolezza del fatto che Rebecca, per preservare la loro amicizia, sta facendo di tutto, anche mettere da parte i sentimenti che nutre per William. Boris e il bel Newcomb nel frattempo litigano a causa di Beatrice. Hildegard vorrebbe aiutare Tina a ritornare a lavorare al Fustenhof, ma Christoph si oppone fermamente. Emerge che solo la Hofer potrebbe sbloccare la situazione. Successivamente, il cattivo Salfield obbliga Alicia a rifiutare il lavoro che ha ottenuto a Berlino per restare al Fustenhof accanto a lui. Sabato 20 gennaio 2018. Alphonse è molto impegnato con le attività del circolo letterario, il quale è costretto a passare la notte in bianco, pur di terminare il libro che dovrà presentare in una delle prossime riunioni. Ella è fortemente in crisi, non riesce ad accettare il fatto che William trovi dei sentimenti per Rebecca. La giovane si caccia in una brutta situazione. Boris la soccorre e quando si imbatte poi nella Herz, la sprona ad essere sincera con la sua amica. Christoph inizia il suo piano di vendetta contro gli azionisti del Fustenhof. Domenica 21 gennaio 2018. Il figlio di Gottfried promette a tutti i dipendenti un aumento di stipendio, al solo scopo di mandare rovina all'hotel. Charlotte e Werner però intuiscono il suo losco gioco e meditano di ricorrere ai ripari. Beatrice prende le difese della sorella, ma ciò non sembra creare particolare turbamento in Christoph. Alicia scopre che non può più recarsi a Berlino per cogliere l'importante offerta di lavoro che le era stata proposta e ignorandone il motivo chiede a Michael di indagare. Pur di esserle d'aiuto, il dottore rinuncia ad un'escursione pianificata già da tempo con Natasha, che si dimostra molto gelosa della fascinante new entry. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.